ciao ragazzi siamo pronti stiamo andando a vedere se riusciamo a entrare in questo posto che ci hanno segnalato della gente grazie al canale che dice che in pratica sentono suonare dei pianoforti di notte dentro questa villa adesso siamo a formazione completa salve a tutti vediamo se riusciamo a entrare non posso inquadrare il posto perché assolutamente ci hanno detto di inquadrarlo perché non è una meta urbex è una meta abbastanza top secret vediamo se riusciamo a entrare se riusciamo a entrare ci vediamo dentro ciao ok ragazzi questo è un forno da pizza che figata vediamo se riusciamo a trovare ma oggi anche cammino qua uccelleria a manetta c'è una valigia anche lì che non sembra così vecchia guarda che cammino qua vestiti di ogni tipo comunque non è questo posto questo è un altro appartamento qua c'è i giochi di bambini un cammino murato io non so ste finestre dove vanno qua c'è tutta la roba da mangiare qua vedi le scadenze scusate scadenza 2021 2006 2006 no 2014 2014 c'è 10 anni di rossi infatti qua c'è la sale una portaforna si c'è tutto c'è guarda anche i detersivi tutti i piatti va dai andiamo c'è tutto gli omogenizzati per i bambini i gomitoli di rana piatti eh lo sfullato lo sfullato c'è stato qua guarda i letti mamma mia ma che mobile wow che belli guarda questo spettacolo ma quell'armadio nero lì mi ha il mio guarda i cascetti dentro col vellotto qua c'è stato la scifollata sicuro prenderei già un tappador bello questo armadio guarda che qui vede se c'è il famoso scheletro nell'armadio ha fatto la battuta qua c'è un paio di occhiali rotti quello da padurale si comunque non è questo il posto questo è un altro appartamento ma non c'entra con quello che dobbiamo fare noi c'è ancora l'odore dei prodotti per il bagno questo è vuoto c'è la chiave lì non è che mi piace tanto qua sotto ecco guarda dai proviamo a cercare dove per me vedere i scenari reti che di solito non si è pregata qualche cosa senegalese di qualche nero sembra dai non perdiamoci qua sotto e questa c'è una nuova che qua non è l'allarme la campanella che sono non è l'allarme si si mi piace tanto sto posto guarda quante riviste che roba macchine agricole è bellissimo non so di che anni sia 1914 rivista agricola guarda vecchissimo questa è tutta storia ragazzi buttata qua così andiamo a vedere se togliamo stiamo andando alla cieca qua guarda su ancora questi si sono persi ehi ci siete stiamo arrivando mi stavo parlando cos'è qualcosa non direi in genovanti dove sei tu? si no questo è vuoto wow guarda qua 93-94 milan che figata ma ragazzi vedete se vuoto ma si sostegno vuol dire che vedi un tetto oh ci sono una foto di un bambino c'è no qua non c'è niente non è questo il posto questa è la parabola di una volta ti ricordi del sistema ma c'è la foto di un ragazzo che non riprenderò qua cos'è? c'è qualcuno? cos'è sto armadio? che posto è? questo posto è stranissimo e l'inqui è tantissimo mamma mia cos'è? hanno rapito qualcuno quello lì è è uno scoccio da sequestro questo il nastro qua eh qua secondo me questi sono altri appartamenti sì ma questa guarda è abbastanza lì in quei tanti eh guarda qua e qua ci vedeva lo scollato che pregava sul tappetino guarda la foto che vengono di quel cane questo è un bagno ho sentito il rumore fuori andiamocene da qua dai ragazzi missione fallita praticamente hanno hanno chiuso tutto dove avete visto che noi dopo siamo usciti c'era da fare un altro pezzo ma hanno chiuso tutto e noi assolutamente quello che troviamo chiuso lo lasciamo chiuso e niente siccome il lence c'ha altre carte nel mazzo adesso andiamo a farcene un'altra speriamo che vada meglio di questa ciao a dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti